possiamo cominciare buonasera a tutti sono alberta lai sono il direttore dell'istituto italiano di cultura di praga sono molto felice di darvi il benvenuto di illustrarvi la scaletta dell'evento di questa sera e di introdurre il nostro il nostro speaker quello di questa sera è un evento speciale per tante per tante ragioni innanzitutto si colloca nel quadro delle celebrazioni del secondo centenario della nascita di pellegrino artusi e padre della cucina domestica italiana e autore del primo ricettario nazionale italiano la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene pietra miliare nella storia dell'alimentazione italiana che ha contribuito alla creazione di un'identità italiana in cucina e non solo abbiamo detto un evento speciale anche perché con questa conferenza con questo webinar inauguriamo la quinta settimana della cucina italiana nel mondo una rassegna annuale che celebra il patrimonio della cucina italiana promuovendo le eccellenze attraverso la rete diplomatica italiana cioè le ambasciate i consolati gli istituti italiani di cultura il titolo dell'edizione di quest'anno è saperi e sapori delle terre italiane a 200 anni dalla nascita di pellegrino artusi il tema dunque partendo dalle radici della nostra tradizione cogliendo la ricorrenza del vicentenario artusiano propone un focus sul rapporto essenziale che lega patrimonio gastronomico italiano e i territori e i suoi territori d'origine la serata è speciale anche perché è frutto della collaborazione di tre istituti italiani di cultura della regione centro orientale europea gli istituti di praga di bratislava e di busapest l'evento è un esperimento di sinergia e di condivisione del primo esperimento è nei nostri auspici è un format destinato a ripetersi nei prossimi mesi ma l'evento di oggi è speciale soprattutto perché abbiamo un relatore speciale ritenuto a livello internazionale uno dei maggiori specialisti di storia dell'alimentazione il professor massimo montanari ordinario di storia medievale dell'università di bologna dove insegna anche storia dell'alimentazione e dirige il master europeo storia e cultura dell'alimentazione nell'ambito delle sue ricerche storiche hanno avuto una posizione centrale i suoi studi sull'alimentazione sulla storia dell'alimentazione intesa come storia a tutto campo che coinvolge i piani dell'economia delle istituzioni e della cultura notevole risonanza ha avuto un suo studio di sintesi la fame e l'abbondanza storia dell'alimentazione in europa pubblicato dalla terza nel 1993 e tradotto in numerose lingue nel 1995 ha pubblicato un libro per ragazzi il pentolino magico dedicato alla storia della cultura alimentare e illustrato da Emanuele Luzzati e sempre per la terza assieme a Jean-Louis Flandre ha curato una storia dell'alimentazione a cui hanno partecipato decine di collaboratori europei e americani pubblicata nel 1996 in edizione francese nell'anno successivo in edizione italiana e infine nel 99 in edizione americana con alberto capatti ha pubblicato proprio nel 1999 la cucina italiana storia di una cultura in cui sono di cui sono uscite numerose traduzioni per brevità adesso tralascio numerose altre sue pubblicazioni importanti è importante però dire che il professor montanari è presidente del comitato scientifico di casa Artusi di Folimpopoli e casa Artusi è un centro di cultura enogastronomica dedicata alla cucina domestica italiana che è insieme scuola di cucina biblioteca e anche museo dedicato a pellegrino Artusi il professore ha tenuto seminari e conferenze in molti paesi europei in Giappone negli Stati Uniti in Canada in America Latina ed è stato insignito di numerose onorificenze fra cui in Francia nel 2012 il premio Rabelais destinato a personaggi che si sono segnalati internazionalmente nello studio nella diffusione e nella promozione della cultura del cibo e porvo adesso un saluto quindi al pubblico collegato dalla Repubblica Ceca dalla Slovacchia e dall'Ungheria virtualmente accanto a me eh c'è il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Budapest il dottor Gianluca Borghese a cui eh cedo la parola per un saluto. Prego. Eh buonasera a tutti eh con veramente un grande piacere che saluto e accolgo il pubblico di questo webinar tenuto dal professor Montanari e frutto della collaborazione di ben tre istituti italiani di cultura dell'Europa centro-orientale come la direttrice il direttore Lai ha detto e nell'ambito della quinta settimana eh della cucina italiana nel mondo eh probabilmente non è fuori luogo sottolineare questa nostra collaborazione ha avuto per scopo proprio la diffusione della conoscenza dell'opera di un gastronomo italiano nel rispetto di una convenzione tutto sommato tipicamente italiana per cui la cultura del cibo e l'arte di stare a tavola favoriscono in un crescendo la comunicazione la reciproca comprensione l'intesa e appunto all'apice la collaborazione. L'Italia stessa come avremo modo di sentire eh ha potuto riconoscersi e rispecchiarsi nel ricettario di Pellegrino Artusi quando la sua unità era una cosa recente e il piacere di ritrovarsi uniti passava evidentemente anche per lo scambio di ricette comunicati in una lingua comune e accessibile a tutti. Bastava per citare proprio Pellegrino Artusi usare le parole dell'autore saper tenere un mestolo in mano. Eh dunque vorrò voglio anch'io ringraziare il professor Montanari per questo suo seminario e gli istituti di di Praga e di Pradislava che hanno reso possibile la sua condivisione e passo nuovamente la parola al direttore dell'istituto di Praga, Alberta Lai. Grazie, grazie Gianluca, grazie al dottor Borghese. Prima di cedere la parola al professor Montanari ho una informazione di tipo tecnico. Al termine dell'intervento del professor Montanari noi mostreremo un video dedicato a Pellettino Artusi ma soprattutto a casa Artusi al bicentenario artusiano. Durante eh questa pausa dedicata appunto alla visione del del filmato il il pubblico potrà porre delle domande per il relatore utilizzando la chat il bottone che è in basso sullo schermo e in questa maniera durante la pausa daremo anche la possibilità ai ai traduttori di tradurre lingue da da lingue che sono ignote a me e penso anche al professor Montanari. Ehm quindi mi fermo qui con le istruzioni di tipo tecnico ringrazio il professor Montanari e finalmente dopo tanti tanti saluti e ringraziamenti gli cedo la parola. Grazie a tutti, buona serata. Grazie dottoressa Lai, grazie dottor Borghese, sono molto contento di poter eh offrire un mio contributo a queste settimane della cucina italiana e anche se sono costretto a farlo a distanza ma i mezzi tecnologici ci permettono oggi di superare anche questo problema. Ora ehm il tema di di del nostro incontro è Pellegrino Artusi nei duecento anni della nascita e con un titolo che ho voluto dare a questo incontro Pellegrino Artusi il primo blogger gastronomico. Titolo un po' curioso se volete ma che cercherò di spiegarvi ben presto. Pellegrino Artusi è diventato famoso per un libro di cucina ma non era un cuo' era un gourmet potremmo definirlo in termini eh nostri. Era nato nel milleottocentoventi duecento anni fa a Forlimpopoli in Romagna eh si trasferì a Firenze una trentina di anni dopo. Di mestiere faceva il commerciante di tessuti eh era un aspirante letterato e fece anche un paio di prove di critica letteraria su giusti e su foscolo ma poi alla fine decise di occuparsi della sua vera passione che era la cucina. Lavorò per anni a scrivere un ricettario, lo propose a diversi editori ma tutti lo rifiutarono. Allora decise di pubblicarlo a proprie spese e di venderlo direttamente dopo aver fatto un po' di pubblicità sui giornali. E così la sua casa di Firenze si trasformò in un piccolo ufficio postale che riceveva ordini, impacchettava libri, li spediva a domicilio ed era l'anno milleottocento novantuno. Inaspettatamente il libro incontrò un successo straordinario. Artusi stesso ne curò quindici edizioni, quindici successive edizioni ogni volta aumentate di numero, ricette e corrette dal milleottocento novantuno al mille novecento undici, anno in cui Artusi morì ormai più che novantenni. Da allora sono seguite decine, centinaia di altre edizioni. La stima che si fa oggi è molto approssimativa e di un milione e mezzo di copie vendute, senza tener conto delle edizioni pirata, delle riduzioni, degli adattamenti. Artusi è stato un libro molto, molto copiato. La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene continua ancora oggi a essere pubblicata, copiata, tradotta, venduta, acquistata, consultata, utilizzata e questo è assolutamente incredibile per un libro di cucina dell'ottocento. A nessun altro libro di cucina di quell'epoca è accaduto di attraversare il tempo con una tale continuità, imprimendosi con profondità nelle consuetudini e nell'immaginario collettivo degli italiani, al punto che, nel linguaggio corrente, Artusi è ormai un libro più che il suo autore. Passami l'Artusi, non intendiamo la persona, intendiamo il libro ed è una frase che in cucina si sente ancora spesso. Il fatto è che era già così nel 1905, più di un secolo fa, quando Artusi era ancora vivo e vegeto. Alfredo Panzini, autore di un dizionario moderno della lingua italiana uscito in quell'anno, 1905, inseriva fra i lemmi anche la parola Artusi, una voce così spiegata, per antonomasia, libro di cucina. Panzini sottolineava anche che questo ricettario è scritto in buon italiano e questo è un aspetto importante della nostra storia, su cui ritornerò fra breve. Intanto però cominciamo col chiarire che la scienza in cucina di Artusi è ben più di un libro di cucina. È quello che mi piace definire un progetto civile e in senso lato politico. Artusi, infatti, con il suo ricettario, volle dare un contributo alla crescita civile dell'Italia che aveva raggiunto da poco la sua unità politica. Proprio a Firenze, proprio sotto gli occhi di Artusi, l'Italia aveva avuto una delle sue prime capitali. Ciò di cui la nuova Italia aveva bisogno era di stringersi attorno a una cultura comune e condivisa. Artusi provò a impegnarsi in quella direzione partendo dalla cucina, raccogliendo ricette di varia provenienza con l'obiettivo di condividerle su scala nazionale. Ovvio che alcune terre Artusi le conosceva meglio di altre, la sua patria romagnola, l'Emilia, la Toscana, questi sono i punti forti del ricettario di Artusi, ma da parte sua c'è anche lo sforzo di includere tradizioni gastronomiche da tutto il paese, nella misura in cui riesce a percorrerlo e a conoscerlo. In che modo? Percorrerlo. Percorrerlo attraverso il treno, attraverso la carrossa, conoscerlo anche attraverso un altro strumento fondamentale su cui mi intratterrò immediatamente, che fu la costa. L'Italia di Artusi è una Italia incompleta, discontinua, ma il suo progetto è veramente nazionale, nella volontà di dar conto di una ricchezza gastronomica che è tipica dell'Italia. In questo progetto curiosamente non c'è posto per la letteratura. Artusi nella sua biblioteca aveva pochissimi libri di cucina. Lui lavorava sul campo, raccoglieva informazioni dal vivo con un'attenzione che oggi diremmo quasi antropologica. La sua attenzione era concentrata sulla cucina di casa e anche su quella delle piccole trattorie. La cucina che Artusi rappresenta non è una cucina inventata, inventata a tavolino, ma è la cucina vera del suo tempo. Questo è il primo segreto del suo successo. Il secondo segreto, quello che dà il titolo al nostro incontro di stasera, è il coinvolgimento dei lettori nella realizzazione dell'opera. Un'opera che fin da subito assume il carattere di un work in progress collettivo. Strumento di questa operazione, lo anticipavo un attimo fa, è il servizio postale, che fin dall'inizio Artusi aveva utilizzato per vendere il libro e che si era rivelato subito uno straordinario strumento di comunicazione con gli acquirenti, lettrici, lettori, che presero confidenza con lui e cominciarono a scrivergli per chiedere precisazioni, per dare consigli, per suggerire varianti e anche nuove ricette da inserire nel manuale. Da questo punto di vista il metodo di lavoro di Artusi fu assolutamente innovativo. Mi verrebbe da dire rivoluzionario se questo aggettivo non suonasse inappropriato a un vecchio signore benestante della borghesia fiorentina, ma sta di fatto che il libro in questo modo si trasforma in un grande blog, il primo blog gastronomico della storia, ovviamente fatto con la posta cartacea, non certo con la posta elettronica cui oggi siamo abituati, ma è un vero blog. Molti partecipano a questa operazione e mentre l'autore filtra i loro interventi, decide se includerli, se pubblicarli in una successiva edizione del manuale, è esattamente il meccanismo del blog ed è solo in questo modo che Artusi riesce a intercettare culture gastronomiche di luoghi che non gli sono familiari o che non conosce affatto. È in questo modo, solo in questo modo, che Artusi riesce a allargare lo sguardo sull'intero paese. Vi voglio fare un esempio, un esempio fra i tanti. Artusi ignora la cucina siciliana, ma già nella seconda edizione del ricettario, uscita nel 1895, quattro anni dopo la prima, include i maccheroni con le sarde alla siciliana nel suo ricettario e non lo fa perché l'abbia scoperta in qualche libro, ma perché qualcuno, tra i suoi lettori, anzi in questo caso tra le sue lettrici, gliel'ha segnalata. Di questa minestra sono debitore a una vedova e spiritosa signora il cui marito siciliano si divertiva a manipolare alcuni piatti del suo paese. Così scrive Artusi introducendo la ricetta che, al pari di tante altre, diventa anche l'occasione per riportare storie, curiosità, aneddoti, riflessioni. Artusi non è solo un libro da consultare, Artusi è un libro bellissimo da leggere, proprio per la capacità che lui ha di far rivivere storie, di far rivivere aneddoti, di raccontare vicende del suo tempo. In un altro punto Artusi scrive, mancherei a un dovere di riconoscenza se non dichiarassi che parecchie ricette del presente volume le devo alla cortesia di alcune signore, eccetera, eccetera. Poi partono le ricette. Ma oltre alle indicazioni contenute nel libro, all'interno del libro, è la copiosa corrispondenza artusiana. Quasi duemila lettere, oggi conservate nell'archivio comunale di Forno in Popoli, a rivelare il meccanismo interattivo con cui il manuale crebbe e quasi raddoppiò nel giro di vent'anni, dalle 475 ricette della prima edizione alle 790 dell'ultima. La corrispondenza talvolta ci consente di ricostruire tutti i passaggi di queste piccole storie di cucina. Per esempio, il 21 gennaio 1906 un certo Leonardo Mordini scrive a Artusi da Barga, una piccola cittadina in provincia di Lucca, spiegandogli come eseguire uno sformato di farina dolce e proponendogli di includerlo nel manuale. Il 7 marzo, quindi un mese o poco più più tardi, gli scrive di nuovo con alcune precisazioni. Evidentemente Artusi le aveva chieste e aveva provato a eseguire la ricetta, qualcosa non gli era apparso chiaro, quindi gli aveva appunto chiesto informazioni in più. Mordini gli scrive nuovamente, Artusi riceve questi chiarimenti e decide di includere la ricetta nella decima edizione della Scienza in Cucina, pubblicata nello stesso anno, siamo nel 1906. E naturalmente il signor Mordini si trova citato nel libro. Un signore di Barga che non ho il piacere di conoscere personalmente, scrive Artusi, invaguito di questo mio libro, ha voluto mandarmi la presente ricetta che credo meritevole di essere pubblicata e anche lodata. Morale di queste piccole storie, il successo che gli italiani hanno decretato al manuale Artusiano è legato alla natura collettiva di quest'opera, un'opera scritta per gli italiani, da un autore dalla grandissima personalità, ma non solo scritta per gli italiani, in gran parte quest'opera fu scritta dagli italiani all'interno di questo grande blog che stiamo ricostruendo. In questo lavorio di raccolta e di confronto tra tante tradizioni gastronomiche non manca mai in Artusi l'appello alla discrezione, al rispetto dei gusti altrui, alla variante, questo è un tema molto importante, alla variante come carattere specifico dell'attività culinaria. Ve ne do qualche esempio, cominciando dalla ricetta del minestrone. Dopo tre prove, perfezionandolo sempre, ecco come lo avrei composto a gusto mio. Padronissimi voi di modificarlo a modo vostro, a seconda del gusto di ogni paese e degli ortaggi che si trovano. Oppure, in un altro punto, non mi rimproverate se in queste minestre io indico spesso l'odore della noce moscata. A me pare che ci stea bene, se poi non vi piace sapete quello che avete da fare, cambiarlo. E se deve fornire la ricetta del risotto alla milanese, Artusi preferisce darne tre. Risotto alla milanese uno, risotto alla milanese due, risotto alla milanese tre. E questa terza ricetta è introdotta da un meraviglioso potete scegliere, punto esclamativo. E per quanto riguarda i grassi di cottura, anche qui nessuna regola se non l'uso locale. Ogni popolo, scrive in una ricetta Artusi, usa per friggere quell'unto che si produce migliore nel proprio paese. In Toscana si dà la preferenza all'olio, in Lombardia al burro, nelle mille all'ardo che vi si prepara eccellente. Siamo quindi di fronte a un'idea di cucina aperta, disponibile, tollerante, anzi che enfatizza le diversità. È una dimensione aperta dell'attività di cucina che qualche volta mi è capitato di definire democratica. È una dimensione a cui Artusi è particolarmente attento, per un motivo contingente ma non solo. Il motivo contingente è che il suo ambito di riferimento privilegiato è la cucina di famiglia, dunque il regno per eccellenza della diversità e della variante. Ma questo metodo, questa filosofia, diciamo così, finisce poi per diventare un valore assoluto che rispecchia, al di là del caso specifico di Artusi e delle sue esperienze di cucina domestica, un modo di procedere tipico della cultura italiana. Formatasi nei secoli, ben prima dell'esistenza di una Italia politica, come rete di culture locali che, innestandosi l'una nell'altra, diventano cultura nazionale, grazie alla condivisione o anche solo al confronto di prodotti, gusti, abitudini diverse. E questo, secondo me, è un aspetto fondamentale, costitutivo della cultura italiana. In molte sue declinazioni, non solo quella culinaria, ma anche arte, letteratura, musica funzionano così. L'Italia come una rete di culture locali che costituiscono una cultura nazionale. Ecco un altro segreto del successo di Artusi. Il suo modo di pensare e di lavorare esprime in modo perfetto la cultura degli italiani, raccogliendo ricette di diversa provenienza, egli non presume di stilare classifiche, non ci sono mai classifiche in Artusi, e neppure precedenze, non c'è mai qualcosa che è meglio di qualcos'altro. Artusi vuole solo raccogliere il meglio delle tradizioni locali, presentarle, raccogliere, ricomporle in un mosaico nazionale che non appiattisce le diversità, ma le esalta. La cucina italiana, quindi nel libro di Artusi, si definisce non come codice unitario, omologato, omologante, ma come spazio di condivisione di saperi e di pratiche. È in questa ricchezza di esperienze che si definisce storicamente, fin dall'età rinascimentale, ma andrei ancora più indietro, fin dall'età medievale, il carattere distintivo e originale della cucina e della cultura italiana. Artusi, che ne è perfettamente consapevole, non ambisce a codificare la cucina nazionale. Artusi non codifica nulla. Artusi semplicemente descrive, racconta, nel nome di poche regole e di molta libertà. Quelle poche regole e quella molta libertà che trova nelle tradizioni delle famiglie, nella cucina di casa, che, come abbiamo già detto, è il regno della variante, della differenza, talvolta custodita come un segreto. Ecco perché Artusi diffida dei libri, e questo è curioso, all'interno di un libro diffidare dei libri, ma scrive in una delle prime pagine del suo volume, diffidate dei libri che trattano di quest'arte, cioè della cucina. Ecco perché Artusi preferisce affidarsi all'esperienza diretta. Il miglior maestro è la pratica, scrive. A questo punto vorrei introdurre un altro tema che è parallelo a quello che ho visto fino adesso e che ho già evocato rapidamente prima, parlando di Panzini. I complimenti che Artusi riceve dai suoi lettori e delle sue lettrici non riguardano solo la bontà delle ricette, ma anche la bontà della lingua con cui le racconta. Non dimentichiamo, infatti, che stiamo parlando di un libro. Non stiamo cucinando, almeno non ancora, ma stiamo parlando di cucina. Un libro è una cosa che si scrive e che si legge e la sua comprensibilità è essenziale. Questo è un altro tema chiave e quando si tratta di Artusi e del suo successo per capire come è potuto accadere questo straordinario boom del libro di Artusi. I complimenti fioccano da ogni parte, dal nord, dal centro, dal sud del paese e tutti, dal nord, dal centro, dal sud, sottolineano la chiarezza, la semplicità, la sicurezza delle ricette. Questo che vi ho letto, la chiarezza, la semplicità, la sicurezza delle ricette, lo si legge in una lettera scritta da una signora ligure, Isabella Paladuri, che scrive ad Artusi dalla Spezia il 9 gennaio 1904. L'anno prima, da Napoli, un'altra lettrice, Ada Mariani, scrive di tanti libri del genere, di tanti libri di cucina, esso è l'unico che a me sembra più pratico, economico e intellegibile. Attenzione a questa parola, il libro è intellegibile in ambito nazionale, cioè si capisce. A Napoli come alla Spezia, a Milano come a Roma, e la è uno dei pochissimi in Italia che sappiano scrivere in italiano, in modo da farci leggere con piacere. Questo lo scrive anche il Mordini, quello, ricordate, dello sformato dolce che scriveva da Varga in provincia di Lucca. Il problema quindi non è solo raccogliere e condividere ricette, ma raccontarle in modo chiaro e comprensibile. Artusi, in aperta polemica con i ricettari del suo tempo, che definisce fallaci o incomprensibili, è attentissimo all'uso della lingua e si sforza, quando possibile, di sostituire i termini stranieri, soprattutto francesi, perché all'epoca era il linguaggio francese, quello dominante in cucina, con equivalenti italiani, mostrando Artusi piena consapevolezza del valore del suo lavoro anche sul piano linguistico. Tenendo come base il lessico toscano e fiorentino, Artusi si impegna nel corso di un ventennio e nelle quindici edizioni successive della sua opera a integrare, correggere, sostituire non solo ingredienti e ricette, ma anche parole, con un'attenzione quasi maniacale alla precisione di ogni termine. In questo modo è vero che Pellegrino Artusi fonda la cucina italiana moderna, questo lo sappiamo, ma altrettanto importante è capire che Artusi fonda il linguaggio moderno della cucina italiana. Mettere in circolazione un campionario di ricette, scelto su base nazionale, suggerire l'uso di prodotti non necessariamente conosciuti da tutti erano operazioni culinarie, ma il passaggio preliminare era di natura linguistica. Di questo vi voglio proporre una storia piccolissima, ma secondo me esemplare, tratta da una lettera che Artusi riceve nel 1906 da un'entusiasta ammiratrice, Luisa Paternelli, che scrive da Sacile in Friuli. Luisa si dichiara donna felice in fatto di cucina dopo aver acquistato quel libro che giudica veramente perfetto. Dice di averlo suggerito a molte sue amiche e che le piacerebbe, pensate, un giorno fare una scappata a Firenze per conoscere personalmente Artusi e stringergli la mano. E' proprio una fan questa Paternelli di Sacile. Addirittura gli chiede, qui siamo al divismo più totale, se può essere così gentile da mandarle un suo ritratto. Pensate che rapporto si instaura a Artusi e i suoi lettori o in questo caso lettrici. Infine, torniamo all'episodio linguistico di cui vi facevo cenno, infine Luisa rivolge a Artusi una domanda curiosa. Senta, io ho letto la ricetta degli zucchini con regamo, ma qui non conosco il regamo. Forse è una piantina sulla specie del basilico? Ora, questa signora friulana non conosce il regamo. Il regamo è il nome che aveva alla fine dell'Ottocento l'origano, cioè uno degli aromi che oggi si ritengono maggiormente distintivi del gusto della cucina italiana, pensate solo alla pizza. Luisa Padernelli non conosce quell'aroma, non conosce quel prodotto e ovviamente non conosce la parola che lo indica. Ecco, in questa piccola storia, un esempio di come il libro di Artusi contribuisce a diffondere contestualmente parole e gusti, sapori e parole. Andando verso la conclusione della mia chiacchierata, vorrei ancora soffermarmi un momento sul pubblico di Artusi, cioè su questo pubblico di lettrici e di lettori che in qualche misura diventano coautrici e coautori, decretando al libro un immediato successo, anche perché si sentono coinvolti personalmente nel progetto. L'identikit sociale di questi personaggi non è difficile da fare, è la borghesia cittadina. È un manipolo di uomini e di donne che scrivono, che leggono, e che nella nuova Italia, unita alla fine dell'Ottocento e ancora ai primi del Novecento, costituiscono una piccola minoranza. Artusi scrive per questo pubblico borghese. Si intende bene, scrive in un punto del libro, che io in questo scritto parlo alle classi agiate, cioè quelle che sanno leggere e scrivere. Ma il fatto è che nel suo manuale questa cultura di elite si incontra con la cultura popolare. Il pubblico delle città, il pubblico borghese delle città, si incontra con i contadini della campagna. In che senso? Facciamo una piccolissima nota sul ricettario e su come comincia. Il riferimento alla cultura popolare nel libro di Artusi è chiaro fin da subito, cioè dalla prima riga della prima ricetta. Prima ricetta è dedicata al brodo e comincia così. Lo sa il popolo e il comune che per ottenere il brodo buono bisogna mettere la carne ad acqua ghiaccia e fare bollire la pentola ad agino ad agino e che non trabocchi mai. È un inizio straordinario perché con queste parole siamo subito proiettati fuori dal testo. È un testo appena iniziato, ma già superato, perché Artusi è per definizione il libro, è il libro per antonomasia, lo definiva Pansini. Ma questo libro è testimone di un sapere non scritto, è testimone di pratiche insegnate e tramandate oralmente nelle case in cui si fa cucina, case borghesi, ma anche case popolari, le classi agiate, ma anche il popolo e il comune. Lo sa il popolo e il comune che per ottenere il brodo buono, eccetera, eccetera. E qui scopriamo un altro segreto del successo artusiano. Perché se a condividere l'avventura della scienza in cucina furono poche migliaia di borghesi sparsi qua e là nel paese Italia, va però aggiunto che dietro di loro c'erano altre culture, altre classi sociali. La cucina borghese dell'Ottocento, da un lato, è il punto di arrivo di antiche tradizioni aristocratiche. Dall'altro, riflette la cultura dei territori che fanno capo alle città, delle campagne che fanno capo alle città. Fin dal Medioevo, la società italiana era caratterizzata da questo binomio, città-campagna. Fin dal Medioevo la città dominava, ma anche rappresentava la campagna. E la cucina cittadina era in gran parte debitrice di quella contadina. Anche se filtrata, depurata, adattata, possiamo immaginare molto facilmente che i piatti contadini della festa diventavano piatti quotidiani nelle case borghesi di città. I prodotti erano più scelti e raffinati, le modalità di presentazione più ricercate, ma restavano consonanze profonde, rafforzate dalla presenza regolare di uomini e donne di campagna nelle case borghesi di città, come personale di servizio, come personale di cucina. Il recettario di Pellegrino Artusi rispecchia perfettamente questa realtà, rivolgendosi alle classi agiate, ma includendo tra le sue ricette una molteplicità di piatti tipicamente popolari, a cominciare dalle minestre, minestre asciutte e minestre in brodo, piatti unici della dieta contadina, che nel libro di Artusi per la prima volta vengono suggeriti come inizio del pasto. È il modello del primo piatto, tipicamente distintivo della cucina italiana. Da questo punto di vista Artusi fonda non solo la gastronomia moderna italiana, non solo il linguaggio moderno della gastronomia italiana, ma anche il menù italiano, così come noi lo riconosciamo oggi. Torniamo a questa anima popolare, fortemente popolare, del libro di Artusi. Fu quest'anima popolare a garantire la straordinaria fortuna del ricettario anche tra i ceti contadini, quelli che alla fine dell'Ottocento non potevano neppure accedere alla scienza in cucina, al libro di Artusi, perché per la maggior parte non sapevano leggere né scrivere. Ma nel corso del Novecento, dopo l'introduzione della scuola pubblica obbligatoria, anche i contadini cominciarono a introdurre qualche libro nelle loro case, cominciando dai sussidiari, dagli abecedari, dei ragazzi che andavano a scuola e poi continuando con qualche testo di lettura, cuore, Pinocchio, o da qualche libro di pratica utilità, come i libri di cucina. Ecco, il libro di Artusi aveva tutte le carte in regola per conquistare anche questo nuovo pubblico, potenzialmente vastissimo, per semplice ma fondamentale motivo che i contadini in quel libro riconoscevano la propria cultura, le proprie tradizioni, il proprio modo di fare cucina. È per questo che troviamo Artusi, nel senso del libro, nella valigia di tanti emigranti, poveri italiani costretti ad abbandonare il loro paese, alla ricerca di lavoro e di fortuna nei decenni del primo Novecento, così come già alla fine dell'Ottocento. Io penso che l'incredibile successo della scienza in cucina di Artusi non si potrebbe spiegare senza questo progressivo allargamento sociale del pubblico di lettori. D'altra parte, il rapporto di Artusi con la cultura popolare non era solamente teorico. Lui la cultura popolare ce l'aveva in casa. Le ricette destinate a entrare nel manuale, lui le provava e le riprovava con l'aiuto di due personaggi chiave di tutta questa storia. Il primo si chiamava Francesco Ruffilli ed era un popolano romagnolo che aveva seguito Artusi a Firenze da Forlimpopoli. Era lui all'inizio l'incaricato di impacchettare, di spedire i libri da casa. L'altro personaggio chiave è Marietta, Marietta Sabatini, una contadina della campagna toscana, giovane intraprendente, intelligente, l'unica donna a cui Artusi dedichi una ricetta, quella del panettone Marietta. Verso questi personaggi, verso questi due collaboratori domestici, Pellegrino ebbe sempre una gratitudine tale da concretizzarsi in un modo molto appariscente e dal punto di vista simbolico molto forte. Nel testamento, che scrisse qualche anno prima di morire, Artusi destinò a Marietta e a Francesco i diritti d'autore sul suo libro, sulla scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, perché, si legge nel testamento, mi hanno coadiuvato al buon esito di quel libro. Cioè, li riconosce come coautori. Questo è straordinario. Permettetemi un'ultima considerazione prima di chiudere. Rileggere oggi Pellegrino-Artusi è ancora di grande interesse. È utile e istruttivo rileggere le sue considerazioni pacate, i suoi consigli leggeri, sempre aperti al confronto e alla tolleranza. Rileggerlo come fondamento teorico e pratico di una tradizione gastronomica fondata sul rispetto della diversità e delle varianti. È un tema su cui ho molto insistito, come avete visto. È fondata su regole dettate dalla pratica e dal buon senso, dal desiderio di coniugare piacere e salute, tecnica e manualità. Nel libro di Artusi si leggono ricette che volano alto. Perché volano alto? Perché non sono prescrizioni, ma sono suggerimenti incastonati in racconti di vita, aneddoti, storie di persone. C'è una dimensione profondamente umanistica nel testo artusiano ed è quella che spesso manca ai ricettari odierni, freddi nel rapporto col lettore, impositivi, dogmatici nel definire ingredienti e procedure. Non parliamo poi di show cooking, di questi spettacoli che trasformano la cucina in una specie di circo o gare di cucina che trasformano il piacere in ansia, la condivisione in competizione. Tutto questo è la negazione del messaggio artusiano. Un messaggio fatto di passione, di attenzione, di precisione, di pazienza e da un senso profondo di libertà che nasce da una cultura abituata al confronto, abituata a mettersi in gioco, anche a sorridere su se stessa, ironicamente. Tutto questo è l'Italia e tutto questo è Artusi, che fu grande interprete dell'Italia. Per questo gli italiani hanno decretato tanto successo al libro di Pellegrino Artusi, di cui oggi festeggiamo i duecento anni della nascita. Grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato per la pazienza con cui lo hanno fatto. Io ringrazio il professore Montanari e devo dire che in un evento in presenza adesso sarebbe partito un applauso meritatissimo, ma questa non è una funzione che ancora la piattaforma Zoom ci permette. L'applauso ci sarebbe stato, sarebbe stato meritatissimo, ma non si può fare, non si può tributare. E grazie del pensiero. E adesso facciamo partire il video, un filmato su casa Artusi e Pellegrino Artusi e durante questa pausa, come ho già detto, il pubblico potrà farci pervenire delle domande, ma ho già visto alcune domande interessanti e forse anche il professore le può vedere attraverso la chat. Grazie. In Romagna basta che vi siate veduti una volta o due, che nasce una confidenza, un affiatamento, tanto da parere una conoscenza di vent'anni. Nel cuore di questo paese dolce e solatio, come dice il Pascoli, sorge tra le colline il mare, lungo la via Emilia, uno dei borghi autentici d'Italia, Forlimpopoli. Ed è proprio qui che sorge una casa speciale, da cui in qualche modo nasce la cucina italiana, la cucina più conosciuta al mondo, casa Artusi, che deve il suo nome a Pellegrino Artusi, il padre della cucina domestica italiana. Perché Pellegrino Artusi, che nasce a Forlimpopoli nel 1820, è proprio colui che per primo ha raccolto e raccontato la cucina italiana nel suo La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, un libro che è entrato nella storia. La cucina è briconcella. Spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere. Perché quelle volte che riuscite o che avete superata una difficoltà, provate con piacimento e cantate vittoria. Casa Artusi si trova al centro del paese, nel bellissimo complesso monumentale della Chiesa dei Servi. Nella biblioteca di Casa Artusi sono conservati, come se il tempo si fosse fermato a riposare, il salotto e lo studio di Pellegrino Artusi, assieme alle sue lettere, ai suoi volumi, ai carteggi con i tanti che gli chiedevano il libro o gli mandavano quelle ricette che poi sarebbero state inserite nel suo manuale. Non vorrei però che per essermi occupato di culinaria mi gabbellaste per un ghiottone o per un gran pappatore. Protesto, semmai, contro questa taccia poco onorevole, perché non sono né l'una né l'altra cosa. Amo il bello e il buono ovunque si trovino e mi ripugna di vedere straziata, come suol dirsi, la grazia di Dio. Nella cucina della casa, che ogni giorno ospita appassionati e professionisti, si svolgono corsi di cucina domestica. Il miglior maestro è la pratica sotto un esercente capace, ma anche senza di esso, con una scorta simile a questa mia. Mettendovi con molto impegno al lavoro, potrete, io spero, annaspare qualche cosa. Ma la casa ha anche altri spazi, che ospitano eventi e incontri, tutti dedicati all'arte di mangiare bene. Fu proprio Pellegrino Artusi alla sua morte nel 1911, dopo 60 anni vissuti a Firenze, a indicare la città di Forlimpopoli come erede. Un patrimonio, certo, ma soprattutto un libro. Un libro che non è solo il ricettario che per primo racconta la cucina domestica italiana, ma è anche un'opera di impegno civile. Attraverso le pagine del suo manuale, infatti, Pellegrino Artusi contribuisce a costruire la giovane nazione italiana nella lingua e nei costumi. 14 edizioni, costantemente aggiornate nel numero di ricette e nel linguaggio, come specchio dell'Italia che cambiava. L'ultima, tradotta in tante lingue del mondo, è ancora la sintesi della cucina nostrana, con 790 ricette raccolte attraverso una fitta corrispondenza con le italiane e gli italiani del tempo, come fanno i food blogger di oggi. Forlimpopoli non ha dimenticato il suo figlio più illustre e ogni anno lo celebra con le feste artusiane, 9 giorni a fine giugno, in un omaggio alla cultura del cibo. Perché proprio in questa casa, in questo paese, in questo territorio, si celebra la cultura del cibo come elemento di unione di collettività, di comunità e di accoglienza, così come lo intendeva Pellegrino Artusi. Vedendo che si è giunti a innumerevoli ristampe, con milioni di esemplari. Peraltro, tradotti in svariate lingue, mi giova a credere che il codesto manuale sia ben vivo, in perciò che io vivo con lui e me lo porto appresso come viatico e passaporto a testimoniare nel mondo il bello e il buono della cucina domestica italiana. Grazie a tutti. Sì, sono arrivate diverse domande. Una prima domanda, forse, una prima curiosità, forse stata già soddisfatta dal filmato, perché qualcuno chiedeva di vedere un esemplare del libro e la copertina del libro è stata mostrata a più riprese durante il video. Ma qualcuno chiede qual è l'edizione più recente, immagino in italiano? E quindi questa è la domanda che rivolgo al professore. Dunque, Artusi, come ho detto e come si sa, ha conosciuto centinaia di edizioni più o meno pirata o più o meno corrette. Diciamo che per uno studioso di Artusi i punti di riferimento dell'opera sono fondamentalmente due. Una è un'edizione in Audi del 1970, quindi è un'edizione che ha già 50 anni, che fu pubblicata a cura di Piero Camporesi ed è stata un'operazione importante perché per la prima volta Artusi è entrato nel quadro di una collana letteraria. e Piero Camporesi ha accompagnato questa edizione di Artusi con una bella introduzione di tipo storico-gastronomico, cioè facendo un po' una storia della cucina italiana e di come si arriva al libro di Artusi. Oltre a questo, l'edizione più recente e assolutamente raccomandabile è quella pubblicata da Rizzoli e curata da Alberto Capatti. Ora io sto mostrando una copertina, ma in realtà ci sono copertine diverse di questo libro. Alberto Capatti ha fatto un'operazione diversa, cioè non ha scritto, non ha introdotto questo libro in un contesto di storia della cucina italiana, ma ha confrontato questo testo con tutta la letteratura contemporanea, ottocentesca, e quindi ogni ricetta viene collocata sia nel suo tempo, sia nei confronti con altri manuali che eventualmente hanno ricette simili, e anche all'interno del percorso artusiano, cioè chi spiega quando è entrata questa ricetta nel manuale, in quale edizione, eventualmente con riferimenti alle lettere, eccetera. Questo è sicuramente oggi il punto di partenza per un approccio al libro di Artusi. Edizione curata da Alberto Capatti per Rizzoli. Grazie, grazie professore. C'era una domanda che mi sembra interessante, molto interessante, ce ne sono tante, ma ne scegliamo qualcuna. Una riguarda le ricette artusiane per il giorno di Natale, se ne ricorda qualcuna. E soprattutto la domanda è quanto siano attuali queste ricette, forse non soltanto nelle istruzioni, ma forse quanto sono ancora natalizie le ricette che Artusi indica per questa ricorrenza. Questa è la mia interpretazione. Dunque, quanto sono attuali le cose non dipende da Artusi, dipende da noi, cioè dipende quanto noi oggi siamo interessati a rifare certe cose con le ricette artusiane. Bisogna dire che la maggior parte delle ricette artusiane sono rimaste nell'uso comune, cioè quando io leggo zuppa inglese, quando io leggo tortellini alla bolognese oppure cappelletti all'uso di Romagna. Ho di fronte a me dei modelli che sono proprio degli archetipi della cultura popolare della cucina oggi. Poi è chiaro che se uno vuole rifare per intero un menù artusiano di quelli che lui consiglia per le grandi feste, ci vuole uno stomaco di una certa robustezza. Cioè, diciamo che ci vuole uno stomaco di un secolo fa, cioè di un'epoca in cui le case non erano ancora proprio caldissime, in cui si andava a piedi o a cavallo e non ancora in automobile, in cui si consumava sicuramente di più, in cui si aveva molto tempo da passare a tavola. Vi leggo, siccome la signora lo ha chiesto, dunque il menù natalizio che consiglia Artusi si suddivide in due perché, come sapete, il Natale nella tradizione italiana o è sbilanciato verso il pranzo della vigilia, o è sbilanciato verso il pranzo del giorno del 25, secondo un uso che distingue un po' anche il nord dal sud. Nel sud Italia si va più verso il pranzo della vigilia, nel nord si va più verso il pranzo di Natale. E non casualmente Artusi per Natale li propone entrambi, cioè il pranzo di magro, perché la vigilia prevede che non si mangi carne, e invece il pranzo del giorno di Natale, che invece è a base di carne. E segue uno schema, che è lo schema tipico di tutti i menù artusiani, che però sono solo suggerimenti. Questo schema ha un inizio con un primo piatto che lui chiama minestra, a volte asciutta, a volte in brodo. Poi ci sono i principi, cioè quelli che oggi potremmo chiamare antipasti, poi c'è il fritto, poi ci sono gli arbaggi, poi c'è l'arrosto, poi ci sono i dolci, poi c'è la frutta. Quindi è uno di quei menù piuttosto da grande cerimonia. Allora, il pranzo di magro di Artusi comprende i tortelli, ovviamente tortelli di magro, o in alternativa il risotto con le telline, poi crostini con caviale, acciughe, olio e agro di limone. Come fritto propone soglio le totani e triglie. Come erbaggi i cardoni, i carbi alla besciamella. Come arrosto l'anguilla o altro pesce. Come dolci il croccante, le mele in gelatina, gli aranci a fette aggraziati con zucchero a velo e alchermes, e poi come frutta, pere, mele e frutta secca. Ora, al di là del fatto che lette tutte insieme queste cose danno un'idea di un pasto piuttosto faticoso per lo stomaco, vi rendete conto che in realtà è una proposta molto sobria. Si tratta di cose basiche, una soglia alla fritta, i cardi con la besciamella, l'anguilla al rosto. E metterle tutte insieme che rende un po' faticoso il tutto. Ma ciascuna di queste ricette a sé istante è una ricetta tradizionale della cucina italiana. Per invece il giorno del Natale, e qui lui comincia, e d'altra parte da buon romagnolo non può cominciare così, con i cappelletti all'uso di Romagna. Seguiti dallo sformato della signora Adele, dal cappone in galantina, o in alternativa i tordi disossati in gelatina, poi c'è un arrosto di cacciagione, lepre o beccaccia e insalata. E poi basta, è finito. Poi dopo si va ai dolci, panforte, torta di pane bruno o plum padding, e poi frutto e formaggio, pere, mene, mandarini, datteri. Come vedete non c'è menzione di panettone, se non in questo panforte che lui inserisce, che fa parte della grande famiglia dei pani dolci di Natale, che evidentemente in tutte le nostre tradizioni locali rappresentano un elemento tipico del Natale, cioè il pane quotidiano che viene arricchito da spezie, da zucchero, da uvette, che noi oggi conosciamo soprattutto nella versione industriale del panettone milanese, che però è solo una delle tante possibili varianti locali di questa tradizione. No, voglio dire, è chiaro che su ogni cosa si potrebbe dire ma questo oggi non lo faremo più, oggi non ci metteremo più a bollire il tartufo, come faceva Artusi, oggi non ci metteremo più a usare un quantitativo di tartufo come quello che lui propone per altro cotto, però nell'insieme è una cucina molto riconoscibile, voglio dire non è solo un interesse filologico storico quello che ci appiccina ad Artusi, è il fatto che qui riconosciamo molto della nostra tradizione popolare, quella tradizione che di solito diciamo che è la cucina della nonna. Ora, questa è una storia molto divertente, sono stati fatti degli studi su questa cucina della nonna, spesso tramandata in dei quaderni scritti a mano, che sono un po' mitologici della nostra cucina domestica. Ecco, da questi studi risulta che in tanti casi questi quaderni di cucina della nonna sono in realtà la trascrizione dal libro di Artusi. Quindi un mio amico e collega un tempo disse forse più che della cucina della nonna dovremmo parlare della cucina del nonno, perché lì veramente Artusi è stato all'origine di molte, non tutte, molte tradizioni casalinghe di nonne che poi si sono trasmesse e hanno trascritto questi quaderni di cucina domestica. Sì, resta il fatto che Artusi, come dicevo anche prima, non ha coperto tutto lo scibile, tutta la pratica astronomica italiana, però ha dato una linea, ha dato una linea soprattutto nell'enfasi che lui ha dato di questa cucina popolare. Secondo me questo è un elemento fondamentale per capire il successo di Artusi, ma anche per capire il successo della cucina italiana nel mondo. A volte mi chiedono perché la cucina italiana nel mondo piace tanto. Secondo me è perché questa cucina ha un'impronta sua, proprio un DNA fortemente popolare, fortemente semplice, fortemente amichevole, fortemente, permettetemi l'aggettivo, facile, che la rende comprensibile a tutti, chiaramente. Cioè la cucina italiana è facile da capire, perché è una cucina popolare. E Artusi è stato un grande interprete di questa idea della cucina italiana, di questa pratica della cucina italiana. Io vedo nella chat tanti complimenti che mi fanno un po' arrossire, ma vi ringrazio davvero per tutta l'attenzione che mi avete regalato. Sì, io penso che possiamo concludere. È un plebiscito, tutti hanno apprezzato moltissimo, hanno trovato interessantissima la sua conferenza. Ci sono stati tra il pubblico, cioè si è collegato al nostro webinar, ha seguito il nostro webinar, anche qualcuno da Kuala Lumpur, dall'Argentina, ma vorrei citare un invito da Casa Artusi a preparare, ad un viaggio a Forlipopoli, quando sarà possibile, per preparare tutti insieme i capelletti all'uso di Romagna. E io vorrei tanto accettare questo loro invito e penso che moltissimi tra il pubblico si ricorderanno di Casa Artusi, del libro di Casa Artusi, della possibilità di imparare a cucinare queste ricette. Un augurio è che questo libro possa essere presto tradotto e quindi disponibile anche in lingua cieca. Grazie, grazie professore. Speriamo di poterla avere qui a Praga nei prossimi mesi, quando lei potrà, per una conferenza in presenza. Me lo auguro veramente. Grazie professore. Forse anche il collega da Budapest la vuole salutare e ringraziare. Grazie, davvero. Sì, anch'io volevo unirmi ai ringraziamenti del direttore Lai, è stato molto interessante, pieno di spunti, che sicuramente potremmo immaginare anche confronti con altre tradizioni culinarie, vedere dove quella italiana ha qualche cosa in più e dove ha potuto appunto diffondersi nel mondo, dovendo essere in competizione con altre grandissime tradizioni culinarie mondiali. Io la ringrazio, anche io ripeto l'invito è già fatto da Praga, spero che a Budapest sarà possibile organizzare una conferenza in presenza, una sua conferenza in presenza e il pubblico ungherese anche ha seguito con molto molto interesse. Tra l'altro la cucina italiana in Ungheria è amatissima, c'è un grande apprezzamento, una grande curiosità per la sua origine, il suo sviluppo. Quindi grazie ancora. Grazie a voi per l'invito e a presto, a presto rivederci.